Ho riscosso tanti successi da imprenditore, ma la gioia e l'emozione che ho provato quando la Lazio ha vinto lo scudetto non hanno uguali. Di chi sono queste parole? Sergio Cragnotti, il protagonista di questo video. Mettetevi comodi, oggi cercheremo di rivivere la sua vita. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Roma, 8 gennaio 1940, quartiere Appio Latino. Qui Sergio Cragnotti all'apice della seconda guerra mondiale nasce. Giovane, brillante, studioso, si laurea in economia e commercio e ben presto inizia la sua carriera. Lavora come contabile nella calce e cementi segni, ma ben presto si accorge di voler qualcosa in più dalla sua vita. Che cosa fa? Stravolge le carte, parte e migra, va in Sud America, nello specifico in Brasile, dove trova un'occupazione nella Cimento Sandarita. In Brasile trascorrerà molti anni e proprio per questo verrà soprannominato Serginho, un tipico nome brasiliano. La sua vita cambierà quando il gruppo Ferruzzi, capitanato da Serafino Ferruzzi, acquisirà quella società brasiliana ed affiderà proprio a Sergio di gestire tutte le attività del gruppo Ferruzzi in Brasile. Il padron Serafino ha una visione, ha una stima particolare di Sergio e alla sua scomparsa nel 1979 il genero Raul Gardini manterrà quella visione riguardo la carriera di Sergio Cragnotti. Gli affiderà tutte le attività del gruppo in Francia e successivamente lo richiamerà in Italia, dove la sua carriera continuerà senza sosta. Gli anni Ottanta sono anni importanti per la carriera di Sergio Cragnotti, gli verrà affidato un ruolo importante nella Montedison, qui assumerà anche dei ruoli dirigenziali e quando questa si fonderà con Enichem per formare Enimond, Sergio Cragnotti sarà prima amministratore delegato nel 1989. Sarà colui che porterà la società a quotarsi in borsa e poi si darà il via alla scalata di Raul Gardini. Anni 90, anni di grande cambiamento e consolidamento. Cragnotti esce da Enimond con una buona uscita di 80 miliardi di lire, una cifra assurda. Investe quella liquidazione da record creando una merchant bank, la Cragnotti and Partners Capital Investment. Qual era la sua specialità? Comprare delle aziende a basso prezzo sottovalutate, rivalutarle e rimetterle sul mercato. Lo stesso Raul Gardini dirà se vuoi vendere un asset non conosco uomo migliore che Sergio Cragnotti. Inizia a fare delle acquisizioni importanti e riparte dal suo Brasile ancora una volta. Qui acquisisce Bombril, una società leader nella detergenza domestica. In Canada acquisisce una società di imballaggi, la Lawson Marder e in Italia inizia a fare delle acquisizioni con la Bril, una società di lustroscarpe con la Polenghi. Ma Sergio Cragnotti è conosciuto non solo per queste acquisizioni ma per un altro acquisto che verrà nel 1992 alla cifra di 36 miliardi di lire. Una cifra molto importante. Che cosa mi sto riferendo? alla Lazio. Il fratello glielo aveva consigliato come diversificare i suoi investimenti e entrare in un altro settore, quello del mondo del calcio. Un settore davvero difficile. Tutti i tifosi della Lazio lo ricordano come il presidente più vincente della storia della squadra romana e soprattutto come il presidente che ha portato la Lazio alla vetta del mondo. Cerchiamo insieme di raccontare ancora una volta quella storia con calma. Ma prima iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Non vi costa nulla. È solamente un click. Torniamo alla nostra storia. 1992 acquisisce la Lazio prima entrando con un 10%, poi col 25% poi entrando con circa l'86-87%. Che cosa fa? Trasforma il mondo del calcio. Cerchiamo di fare un po' di contesto. Sono gli anni 90 e in quel momento il mondo del calcio è governato dalle tre grandi del nord. A Torino abbiamo la famiglia Agnelli che da quasi un secolo detiene appunto la Juventus. A Milano abbiamo Silvio Berlusconi entrato qualche anno prima nel Milan e che sta portando il Milan a vincere sia in Italia sia fuori Italia con Champions League su Champions League. Sull'altra sponda a Milano abbiamo Massimo Moratti che da poco ha riacquistato l'Inter. L'Inter che aveva detenuto il padre e che la vuole portare al successo quindi ogni anno spende moltissimi soldi per acquistare nuovi giocatori e per portare i tecnici migliori a Milano ma ancora non è riuscito proprio nel suo intento. A Roma qualche anno dopo, un solo anno dopo arriverà Sensi. Anche lui, Franco Sensi investirà moltissimo nella Roma. Quindi c'erano in Italia 4, 5, 6 squadre. Naturalmente da citare ce ne sono delle altre. La Fiorentina, il Genoa, la Sampdoria che in quegli anni vincerà anche uno scudetto della coppia Vialli Mancini. E' un calcio spumeggiante. La Premier League di oggi era la Serie A tra gli anni 90 e gli anni 2000. Vincere in quel contesto era impossibile. il calcio italiano era preso da una folle pazzia di spendere cifre considerevoli, cifre folli per l'acquisto dei giocatori. Che cosa fa Cragnotti? Entra a gamba tesa. Nella prima sessione di calcio mercato spende 60 miliardi di lire per acquistare giocatori importanti alla corte della Lazio per cercare di imbastire una squadra che possa competere contro quei Colossi. Pensate bene per battere Berlusconi, Agnelli e Incombani che cosa bisogna fare? Spendere più di loro. Offrire contratti ancora pionerosi a quei giocatori che tutti vogliono. Che cosa succede? La Lazio arriva sul tetto del mondo. Che cosa vince? Non vince moltissimo. Attenzione uno scudetto, due supercoppe Italia, due coppe Italia, una supercoppa europea e una coppa delle coppe. Molto ma non moltissimo. Avrebbe potuto vincere ancora di più. Arriva due volte secondo in Serie A, quindi sfiora altre volte lo scudetto, ma porta la Lazio dove non era mai stata. La prende a cavallo tra Serie A e Serie B. In anni davvero difficili di transizione la porta sul tetto del mondo. Perché tendo a sottolineare questa cosa? Sir Alex Ferguson alla fine della sua carriera con il Manchester United gli viene chiesto qual è il tuo rimpianto più grande. E lui dice la supercoppa che ho perso contro la Lazio. Ma attenzione l'ho persa meritatamente. In quel momento la Lazio era la squadra più forte del mondo. Un riconoscimento grandissimo avvenuto dall'allenatore più vincente della storia del calcio e che appunto descrive quella situazione. I migliori giocatori arrivano alla Lazio. Signori, Gascogne, giocatori pazzeschi. Lo stesso Bobo Vieira acquistato dall'Atletico Madrid che verrà rivenduto un anno dopo all'Inter alla cifra di 90 miliardi di lire. Pensate un po' che follia era questo presidente. Ha stravolto il mondo del calcio. Ma cerchiamo di parlare di finanza ancora una volta. Quella è la novità più importante che ha portato nel calcio. Sicuramente idee nuove, freschezza, tanto entusiasmo, voglia di fare, ha riportato il sorriso in casa bianco celeste. Ma da un punto di vista finanziario la Lazio è stato il primo club italiano ad essere quotato in borsa. Che cosa significa una società di calcio quotata in borsa? Fate mente locale. Ce ne sono al momento tre quotate in borsa. Lazio, Roma, Juventus. Perché non ce ne sono delle altre? In quel momento, negli anni 90, le squadre inglesi stavano iniziando a fare questa operazione. Cragnotti, uomo di mondo, uomo che aveva viaggiato, si era accorto di ciò ed aveva proposto lo stesso modello alla Lazio. Perché? Essenzialmente dopo anni di spese folli, la Lazio era in apparente difficoltà economica. Anzi, non in apparente, in vera difficoltà economica. E quindi aveva bisogno di ricevere dei capitali freschi, capitali nuovi. I tifosi della Lazio, 40.000 persone, sottoscrissero quelle azioni in maniera folle. Che cosa poteva succedere alla Lazio dei Cragnotti? Quelle azioni avrebbero solamente dovuto crescere. E attenzione, crescita che ci fu. Pensate bene che le azioni della Lazio arrivarono a toccare 60 euro cada una. Ah, che cosa? Andate a guardare quanto valgono quelle azioni oggi. 30 centesimi sono arrivate a quotare dopo qualche anno. Pensate un po' a quanti soldi hanno perso i tifosi della Lazio. Da quella vendita Cragnotti arrivò ad avere circa 60 miliardi di lire. 30 miliardi furono appunto utilizzati per la Lazio. 30 miliardi per la Cirio. Sì, continuò le sue acquisizioni. Nel 94 acquisì Cirio e questo nome vi dovrebbe tornare alla mente. Ma cerchiamo di continuare questa storia con ordine. Successivamente alla Lazio lo fece la Roma nel marzo del 2000 e nel 2001 anche la Juve si vuotò in borsa. Ritenendo che quell'operazione fosse una svolta, fosse importante per le casse delle società. Non si rivelò così. Oggi quanto valgono le azioni di queste società? Pochi centesimi. Spesso fanno il raddoppio in un mese e poi vanno a perdere il 50%. Non sono altro che pura speculazione. I mercati hanno grossa diffidenza per le squadre di calcio perché non sono trasparenti nei loro bilanci. Non hanno un modello di business sostenibile. Ogni anno le squadre di calcio perdono soldi su soldi. Si è andato a toccare un tasto delicato ed è proprio così sul più bello tra il 2002 e il 2003 tutto l'impero di Sergio Cragnotti crasha come direbbero i più giovani. Fallisce e messo in bancarotta 9 bond per un totale di 1,125 miliardi di euro. Non viene ripagato e quindi la società viene accusata di bancarotta fraudolenta. Sergio Cragnotti viene stromesso dalle sue società. La Lazio viene messa in mano alle banche. In quegli anni aveva fatto forte ricorso al debito. Quindi avevano in mano le banche la Lazio e c'era un debito di più di 200 milioni di euro che gravava sulle casse del club capitolino. Cragnotti non diventerà più presidente della Lazio. Nella sua tenuta di Montepulciano nel febbraio del 2004 verrà arrestato. Verrà condotto a regina cieli. Trascorrerà in calcere qualche mese. Verrà liberato successivamente nell'agosto del 2004 ed inizierà un processo a suo carico che durerà moltissimi anni. L'ultima sentenza in Cassazione condannerà Cragnotti per il crack Cirio a 5 anni e 3 mesi di reclusione nel 2021 per quando era successo nel 2004. Lungi da me il commentare leader burocratico giudiziario tutte le vicende adesse connesserlo nello scopo di questo video. Ma Sergio Cragnotti appunto affronterà una dura parte della sua vita. L'ultima parte della sua vita sarà dura. Ancora oggi Sergio Cragnotti parla e racconta nelle interviste quel suo periodo alla Lazio, quel suo periodo rinnovatore, periodo che però è durato appena appena un decennio. Che ne è di Sergio Cragnotti e della sua esperienza alla Lazio? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Sicuramente i tifosi laziali più grandi di me si ricorderanno quel periodo con grande entusiasmo e sicuramente con gioia aver vinto tutti quei titoli. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima storia. Ciao ragazzi!